Bologna si veste di nuovo da icona della bellezza in occasione delle due fiere internazionali dedicate alla cosmetica professionale e al packaging Cosmoprof e Cosmopac. Le novità di Cosmoprof rivolte al popolo che ama le tendenze, il benessere, la cura del corpo e fa muovere questo settore con sviluppi in crescita sono innumerevoli e tutte volgono verso la tecnologia e la ricerca, sempre più avanzate. Si punta ad integrare al meglio le esigenze per offrire soluzioni che siano una perfetta unione tra high tech e natura. Tra le novità assolute presentate ci sono le creme per il viso e per il corpo realizzate su misura, personalizzate in base addirittura allo stile di vita di chi le utilizzerà. I lisir di bellezza ricercatissimi per tutti coloro che vogliono mantenersi giovani nel tempo e usare prodotti esclusivi. Il mondo dedicato al wedding è ormai consolidato e Cosmoprof ha realizzato uno spazio dedicato proprio alle future spose, con sposa, bridal hair e nail art, dove si analizzano le migliori formule per il giorno più bello, capelli, viso, trucco e unghie. Quest'anno va in scena la prima edizione di Cosmoprof Barber Show, un'area dedicata soltanto all'uomo che va a raccontare e sperimentare con soluzioni innovative l'universo di azioni che lui applica per la propria bellezza. Barba ai capelli, cura del corpo e del viso, con massaggi, oli, creme e processi di benessere con panni caldi. Per Cosmoprof Wellness, grazie al progetto Halal Beauty Care & Spa, messo in campo con la collaborazione dell'ente certificatore italiano World Halal Development, ottengono grande attenzione i prodotti certificati Halal, che in arabo significa leciti. Rivolte al settore delle spa in continua crescita, anche verso un mercato interessante e che costituisce un bacino ricco di potenziali consumatori, circa un terzo della popolazione mondiale. Cosmopac unisce per la prima volta l'industria cosmeceutica e naturaceutica attraverso Nuce Health World Expo, che prende forma a Bologna Fiera, presso il Palazzo degli Affari, a consolidare l'impulso verso le nuove tecniche di lavorazione che rispettano la natura. Ricerca e sperimentazione delle aziende cosmetiche sono raccontate attraverso The Cosmopac Factory, che punta ad avvicinare e coinvolgere tutti i visitatori ai processi industriali e alle loro evoluzioni in costante sviluppo. The Cream Factory è l'iniziativa ormai consolidata che quest'anno realizza nuovo siero per la pelle, dalla texture setosa, in grado di donare lucentezza ed armonia al viso. L'intera industria della bellezza si riunisce a Bologna per dare ascolto alle nuove esigenze dei consumatori e per raccontare un mercato in continua evoluzione e crescita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!